Buongiorno amici di calciomercato.com, siamo qui dalla sede dell'Inter, come potete vedere alle mie spalle ed è una giornata importante, una giornata della trattativa per capire se Pastore possa realmente raggiungere Milano o meno. Ci sono stati aggiornamenti ieri sera quando hanno parlato Walter Sabatini e Piero Ausilio che hanno un pochino chiuso, hanno fatto capire come non ci siano margini per trattare, invece non è propriamente così perché la trattativa procede, va avanti e entro stasera probabilmente tra le 18 e le 19 potremo avere il quadro della situazione più chiaro, più delineato. Capiremo Marcello Simonian cosa avrà da dire perché molto probabilmente la gente del calciatore parlerà questa sera. Ciò che sappiamo è che il Paris Saint Germain vuole dei soldi per un prestito oneroso con poi un diritto di riscatto, un'operazione da circa una trentina di milioni ma proprio sul prestito oneroso si era un po' inceppata la trattativa che però è ripartita, è ripartita in mattinata e quindi in questa giornata odierna ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti. Vi invito per questo a rimanere su calciomercato.com perché vi racconteremo come facciamo sempre tutta la trattativa fino alla fine.